Un decalogo per la creatività di Federico Faggin La vita è inerentemente creativa. Gli organismi viventi sono creati dagli enti coscienti, per avere esperienze in un mondo fisico che impone limiti al loro libero arbitrio. L'organismo vivente è una struttura fisica quantistica e classica, che è controllata dall'ente cosciente. La creatività che tipicamente attribuiamo all'organismo proviene invece dalla coscienza e dal libero arbitrio, dell'ente che ha il vero sé. Noi non siamo il nostro corpo, ma viviamo l'esperienza mediata dal corpo. Noi non siamo il nostro corpo, ma viviamo l'esperienza mediata dal corpo. Noi non siamo il nostro corpo, ma viviamo l'esperienza mediata dal corpo. Noi non siamo il nostro corpo, ma viviamo l'esperienza mediata dal corpo.